Giunti a metà della stagione estiva 2014, il Comune di Praia a Mare rilancia l'attenzione sul regolamento per i fitti estivi come principale strumento per incrementare il controllo del territorio e la sicurezza pubblica. La comunicazione all'ente praiese dei dati degli ospiti delle cosiddette seconde case da girare poi alla prefettura di Cosenza, secondo l'amministrazione comunale, procede a un ritmo incoraggiante. Di qui l'appello ai proprietari di case a continuare la loro attività di fitto stagionale nel rispetto del regolamento, assumendo contestualmente il ruolo di prima fila del controllo. Lo strumento è un buon strumento, stiamo avendo un buon riscontro, la gente sta rispondendo, però questo è un invito. Più la gente risponde, più il paese sarà sicuro, solo attraverso l'impegno delle persone a selezionare, a stare dietro a chi viene, a guardare negli occhi le persone a cui stanno per dare le chiavi della loro casa, della quale poi ne risponderanno, solo questo sarà il più grande deterrente che noi praiesi possiamo avere per migliorare la sicurezza nostra, dei nostri figli, dei nostri cari, di tutti quanti, ma soprattutto per preservare il nostro luogo, quindi il nostro paese, da quelle che possono essere le azioni criminali che si sono verificate l'anno scorso ma anche negli anni passati. Quindi la palla ora sta in mano ai cittadini, l'amministrazione ha dato lo strumento e effettuerà quello che dovrà fare, fare i controlli, cercherà di fare anche delle rilevazioni statistiche. I dati in mano attualmente all'ente sono parziali e, in previsione dei flussi vacanzieri di agosto, in via di aggiornamento. La loro raccolta, oltre che rispondere alla funzione di controllo, risponde anche a un'altra esigenza, l'utilizzo dei dati nel rispetto delle norme sulla privacy per avere un quadro preciso di tendenze, abitudini necessitate ai visitatori di Praia Mare e ricavarne input da trasferire anche agli operatori economici per migliorare l'offerta turistica della città. Il buono di questo regolamento è che usciranno fuori dei dati che poi possono essere condivisi con tutti per comunicare sempre più e sempre meglio tutto quello che avviene a Praia. Utilizzando quel regolamento si va anche a regolamentare un settore e dare una misura che potrebbe essere poi utile per l'offerta turistica extra alberghiera, nella quale io credo tantissimo. Basti pensare alla differenza che c'è tra i posti letto alberghieri a Praia Mare, che sono circa 2.000, e quelli extra alberghieri, che sono probabilmente 10 volte tanto, anzi veramente qualcosina in più.